Gentili telespettatori, buona giornata. E così Elsa Fornero, nel programma L'Aria che tira sulla 7, lancia un po' di livore, traspare un po' di livore per la Meloni che raccoglie i suoi meritati successi. Dobbiamo dire così, perché è così. E così Elsa Fornero, anche sulla stampa, impartisce lezioni di economia. Lei è professoressa di economia, ex ministro del lavoro del governo Monti, dice così, analizza il report dell'Inps e dice che è parte del piano governativo la ristrutturazione e la riduzione delle imposte, riduzione delle tasse. In sé è legittimo, dice La Fornero, soprattutto quando si tratta di redditi bassi, anche se problematico se lo si considera alla luce del grande debito pubblico di contenimento fiscale in altri paesi, specie se indebitati. Le strade per la crescita passano per riforme e investimenti più che per la detassazione. Quindi chi taglia le tasse sta sbagliando, le strade sono altre. Eppure una riduzione della pressione fiscale immette più liquidità nelle tasche dei cittadini, agevolando i consumi e mettendo benzina così nel motore del PIL. Ma la professoressa ci dice che tagliare le tasse non porta ad una crescita del paese. Invece devo smentire la professoressa Fornero, la riduzione delle tasse porta a crescere il paese. Perché? Tu hai 100 euro in più in tasca e ti vai a comprare le scarpe che non ti potevi comprare da tempo. Comprando le scarpe magari quel negozio che stava per chiudere magari va avanti e continua a pagare lo stipendio alle commesse, ai commessi. Tanti che si trovano 100 euro in più in tasca li spendono e fanno muovere l'economia. La gente ha dei soldi in più, chi li mette via, chi li mette da parte per le scarpe, chi per le vacanze, chi per le bollette. Però quando tu lasci più soldi in tasca alle persone accipicchia se muovi l'economia altro che se muovi l'economia. Certo la detassazione fa quello che può, meno tasse e più soldi in tasca, ovviamente. La crescita passa per riforme e investimenti. Intanto la crescita passa anche dalla detassazione. Capisco che un paese così indebitato come l'Italia abbassare le tasse non è facile, perché con quelle tasse lo Stato ci deve pagare il debito lunare che c'è. Riforme. La detassazione è una riforma, cara professoressa. La riforma dell'IRPEF è una riforma. La detassazione, l'abbassare le tasse è una riforma. È una riforma del sistema. Investimenti. Gli investimenti ci sarebbero, per esempio, costruisci il ponte sullo stretto di Messina, ti porta 10, 15, 20, 25 mila lavoratori tra indotto e lavori diretti. Lì per sei anni in quella zona hai lavoro, c'è sviluppo, c'è gente che sta lì negli alberghi, che affitta le case perché sta lavorando lì, che va al bar, che va alla entrattoria, che il sabato e la domenica magari va a spendere in centro. Quindi portare, costruendo una grande opera, come diceva uno dei più famosi economisti Keynes, che scomparve proprio dopo la fine della seconda guerra, diceva che in momenti di crisi lo Stato deve investire. Ed è proprio quello che vi sto dicendo io. Lo Stato investe e porta lavoro. Costruisce il ponte sullo stretto e porta migliaia e migliaia di lavori, pagati con i soldi pubblici. Quindi aziende che lavorano, soldi che girano, persone che hanno lavoro, meno disoccupazione. In quella zona, se si riuscirà a fare questo ponte, quelle migliaia di operai lì spenderanno un sacco di soldi. Il loro stipendio la gran parte verrà speso lì. E fai benzina, e vai al ristorante, e vai al bar, e vai in pizzeria, vai a comprarti le caramelle, vai a comprarti la cartolina. Spendi i soldi lì. Quindi gente che trova lavoro, che ha uno stipendio, che paga le tasse. Quindi c'è poi un ritorno per lo Stato, perché quei 20, 25, 30 mila persone che lavoreranno. Con il loro stipendio saranno persone che non sono più disoccupate, ma avranno un reddito e pagheranno delle tasse che andranno nelle casse dello Stato. Quindi, cara la mia Elsa, quando dici che passa per riforme e investimenti più che detassare la crescita di un paese, e la Meloni ha fatto le riforme, che è proprio quella della detassazione, sta facendo gli investimenti, come può essere il ponte sullo stretto. Pertanto lei sta dicendo che la Meloni non fa quello che in realtà la Meloni sta facendo. Capite che naturalmente la Fornero viene chiamata in trasmissione per andare giù contro il governo. Che fa la Fornero? Va in trasmissione sulla 7 televisione di sinistra, nel programma di sinistra all'aria che tira, con i conduttori di sinistra, a dire che la Meloni sta facendo riforme e investimenti e questo è un volano per l'economia. Gli rovina la trasmissione, voi mi capite che poi non la chiamano più. Quindi anche Elsa si sentirà in dovere, per riconoscenza che la chiamano, a dire in fondo che la Meloni sta sbagliando. Eh sì, sta sbagliando. L'economia si fa crescere in un altro modo e invece proprio quell'altro modo lo sta facendo la Meloni e l'economia sta crescendo. C'è il problema degli stipendi poveri, che è un problema molto serio e spero che la Meloni in questi tre anni di governo che rimangono possa davvero mettere le basi per quel famoso salario minimo che lei voleva chiamare equa remunerazione da dare a chi non ha i sindacati. Io credo che il maggiordomo abbia bloccato tutto. Tajani, il portavoce dei Berlusconi, io credo che abbia detto alla Meloni no, noi siamo assolutamente contrari a qualunque formula di salario minimo, pertanto io credo sia stato proprio lui il maggiordomo dei Berlusconi a bloccare tutto. Però poi magari mi sbaglio, magari è stato quell'altro con la barba a fermare tutto. Perché la Meloni voleva farlo, quindi sono stati gli alleati che hanno fermato il salario minimo della Meloni, purtroppo. Questo succede quando hai a che fare con soci di governo che hanno certe idee. Grazie a tutti e arrivederci a presto.